Ciao a tutti e bentornati su Lissa SML, anche oggi nuovo video, oggi vi porto a sfogliare insieme a me, Poca Italia, il numero di maggio 2021, ci tengo a ricordare e a ringraziare nuovamente Paul che tramite una donazione vital ha voluto regalarmi questo apponamento oltre agli altri a Poca Italia e il primo numero dell'apponamento è arrivato, è quello dedicato all'astrology issue e non specifico al cancro appunto il numero di maggio, numero 848 e appunto ho voluto subito fare un video per sfogliarlo insieme a voi e presto arriverà anche sul numero di L che mi è arrivato ieri e allora se ancora non siete iscritti al canale io vi invito a farlo mi farebbe molto molto piacere che poi entraste a far parte della nostra famiglia SMR famiglia in audible su libri e riviste e quindi se questa tipologia vi piace potete iscrivervi e anche lasciare un like e un commento inoltre nella descrizione ho lasciato i link per le donazioni in Paypal e per la Amazon Weeklist poi prima di iniziare vorrei scusarmi per la situazione unghie che un po' siano rovinate ce l'ho fatta qualche giorno fa e già sono un po' soprattutto gli indici un po' rovinati quindi spero non sia un problema noi intanto faremo un po' di tracing e intanto leggerò le varie cose allora io passo un po' più sulle notebook ed iniziamo facciamo un po' di tracing su bocca su bocca 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 facciamo un po' di tracing anche sulla modella in copertina sulla bocca sugli occhi anche su questo completo che immagino sia di Chanel dello stile ma non è detto magari di un altro brand che insomma magari somiglia andiamo oltre in un po' di tracing su james corden gucci 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 ucci gucci ucci gucci ucci gucci tracing su james corden gucci 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 guc qui invece abbiamo Dior con questi anelli colorati di Dior facciamo un accellino un coricino le berline l'anello con l'accella di Christian Dior poi questo altro anello e questo altro ancora sul poltice Dior 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 Chanel grande classico G H A F N U I L Chanel un po' di tracing su questa classica borsa veramente intramontabile un modello che viene ancora oggi apprezzato ed è molto molto elegante con la classica GG sull'hardt quindi ci abbiamo Fenty con questo particolare tipo di occhiali abbiamo ancora bulgari 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 roma bulgari bulgari roma mi pare che mi interessi anche su questi bracciali gli anelli poi c'è Tom Perignon Tom Perignon per Lady Gaga Tom Perignon Perignon questa dolce cappana dolce e cappana dolce cappana facciamo un po' di tracing sulla borsa ma soprattutto su questo vestito credo che la foto sia stata scattata sul lago di carta mi sembra devi conoscere il paesaggio poi magari è un altro posto ma sembra un lago di carta poi qui abbiamo Chanel Chanel high jewelry jewelry Chanel collana numero 5 color bianco di mattia di mattia di mattia di smerota 55,55 carati di appelle tipo 1 1 A oppure I E A non lo so bellissimo bellissimo molto molto bello bella 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 collana qui qui invece abbiamo Tiffany 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 con Tiffany e con questo bellissimo bellissimo anello di Tiffany un altro grande brand classicissimo veramente 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 belli anche qui troviamo ancora Tiffany molto 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 belli abbiamo anche introducing 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 ralph loren 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 quindi occhiali da sole qui abbiamo Giorgio Armani Giorgio 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 Armani ancora Giorgio Armani arriviamo d'Hermes arriviamo ad Hermes Hermes gemelleri al galoppo Hermes 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 gemelleri al galoppo sopracciglia e un po' zigomi del viso della motella omega guess roberto ricci design subrimi che troviamo a corso campan di venti a milano griari griari testiamo diamanti lobs collection pomellato 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 milano 1967 sono da sette con tutti questi ben diamantini queste belle pietre giovanni raspini giovanni raspini giovanni raspini intimissimi 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 mi mango 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 caro pianeta il 79% dei nostri capi ha già proprietà sostenibili nel 2022 raggiungeremo il 100% qui iniziamo un po' la parte con gli articoli magari ecco per gli articoli posso fare proprio dei video a parte quindi leggiamo proprio tutto ciò che che c'è qui all'interno per il momento volevo soltanto fare un po' di tracing questa volta e mentre appunto vi ho accompagnato con l'ina audible quindi se ancora non siete iscritti al canale vi invito nuovamente a farlo e a lasciare anche un like se vi va e anche un commento inoltre vi ricordo ancora che c'è i link in descrizione sono quelli per le donazioni paypal e appena non so wishlist nel caso vogliate supportare il canale per il miglioramento della sua qualità e se trovate fino a questo punto io vi ringrazio e vi ringrazio sempre perché cliccate sui sui miei video e mi fa molto 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 piacere e nulla noi ci sentiamo domenica con un nuovo video ciao